Passiamo ai motori, oggi parte la mille miglia, la storica competizione d'auto d'epoca, quanto mai affascinante. Allora, ma qui leggiamo subito con Breesh, lì per noi c'è Saverio Garaguzo. Realmente, questo monumento è molto grande come la esenzione della leggenda Muhammad Ali, conosciuto come il miglior boxeadorato al giorno. E come reagiscono quando sentono lo che dicono che dicono che sei un'unico instabile, che hai amato, che hai amato, che hai amato il contatto di persone e che finalmente cercherebbe a fare una pub GOL! Tegmol, tegmol! Diochse, Andrea, diochse! E' fuigge, e' fuigge! E' la, e' la, e' la! E' la, 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 e' la Non è il suo consiglio! Che si è il suo consiglio! E' un uomo! Ce che si è il suo consiglio! Dio! Ti dipetezzi? Giu dè? Giu dè! Grazie a tutti. Grazie a tutti.